Buongiorno a tutti cari amici e buon inizio settimana, questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolonne e per una mezz'ora circa leggeremo insieme le principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo quest'oggi con i Corriere delle Alpi, il tema di apertura sia sul Corriere che sul Gazzettino che su tutti gli altri giornali è quello del V-Day, cioè della giornata in cui sono partite a livello europeo le vaccinazioni anti-Covid. Vediamo appunto il titolone di apertura del Corriere delle Alpi, la seconda ondata, primi vaccinati nel Veneto, si legge. Garantita la fornitura di 38 mila dosi a settimana, si comincia con operatori sanitari e anziani nelle RSA e c'è un lungo approfondimento da pagina 2 a pagina 9. La foto di copertina è dedicata alla vaccinazione nel belunesi, 40 volontari belunesi, diamo il buon esempio. Negli ospedali di Beluno e Feltra è andato a scena il V-Day, grande ottimismo tra infermieri e medici che si sono sottoposti al vaccino, un'opportunità che non possiamo non sfruttare, hanno detto. E sempre a proposito delle difficoltà causate dalla pandemia c'è la questione del circo bianco, degli impianti di sci. Le linee guida per la riapertura sono in alto mare e l'apertura slitta al 7 febbraio. La stagione dello sci aprirà, se non ci saranno intoppi, alla vigilia dei mondiali di sci di Cortina. Perplessi gli impiantisti, troppo tardi, ci sono operatori che già ipotizzano di saltare la stagione. E poi per quanto riguarda Superski, non molla. Il presidente Varallo, il presidente di Dolomiti Superski dice, pronti a partire anche domani, rinunciare alla stagione mai e poi mai, noi gente di montagna non molliamo tanto facilmente e siamo pronti a riaprire anche subito. Sottolinea appunto il presidente Varallo. E poi c'è una notizia, un lancio che riguarda la frangivento l'Ipecar bellunese che conquista gli Emirati. Missione araba per i fratelli Pirolo, prossima apertura di showroom ad Abu Dhabi e Dubai per promuovere il marchio frangivento. C'è un approfondimento a cura di Stefano Vietina. E ancora andando in questo caso a Belluno, nel capoluogo, zone 30 per proteggere i pedoni nei quartieri. I candidati sono Cavarzano, Nogaret e Castione. C'è un approfondimento a cura di Alessia Forzin. Ma andiamo subito all'interno per leggere quel che riguarda il V-Day, il primo giorno di vaccinazioni. Leggiamo qualche riga dell'articolo che riguarda l'ambito nazionale. Vaccino per i primi 9.780 italiani. Conte, questa è una data storica, priorità al personale sanitario e gli ospiti dell'RSA. Il commissario Arcuri, immunità di gregge, serve l'80% dei cittadini. E poi c'è anche un'infografica che mostra quello che sarà il piano vaccinale in Italia per la copertura della popolazione. Le vaccinazioni sono iniziate ieri, 27 dicembre. Proi, fra gennaio e marzo saranno vaccinati gli operatori sanitari, le lungodegenze e le persone over 80. Tra aprile e giugno, come si legge in questo grafico, persone over 60, gruppi a rischio di malattia grave e personale scolastico. Fra luglio e settembre, personale scolastico rimanente, lavoratori, servizi essenziali, carceri, luoghi di comunità. E fra ottobre e dicembre del 2021, tutto il resto della popolazione con cui si dovrebbe coprire il 90% come c'è scritto in questa tabella. Le categorie prioritarie sono gli operatori sanitari, il personale e gli ospiti dell'RSA, delle case di riposo e gli anziani over 80. Il totale 6,5 milioni di italiani che rientrano appunto tra le categorie prioritarie. Andiamo avanti e leggiamo quello che riguarda il Veneto. Per il Veneto 38 mila dosi a settimana, tutto pronto anche per la seconda fase, si legge a pagina 6. Zaia ieri a Treviso, nella regione il virus pesa, ma non siamo Bergamo. Zonizzazione, i 21 parametri vanno rivisti. Ricordiamo che il Veneto in tutto questo tempo è rimasto sempre zona gialla. Una fiala di vaccino tra pollice e indice, tenuta stretta perché non cadesse, ma con massima attenzione affinché non si scaldasse. Ecco, di queste ne arriveranno in Veneto 38 mila settimane a partire dai prossimi giorni. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è partito come di consueto dai numeri, ma in questo momento non si poteva fare altro. L'entusiasmo per la prima iniezione di vaccino non poteva celare le domande sul come si procederà d'ora in avanti. Si inizierà a giorni, ha spiegato Zaia, attendiamo 120-140 mila dosi che dovranno essere somministrate in un doppio turno, vaccino e richiamo, quindi due dosi devono essere somministrate, per coprire 30 mila operatori sanitari e circa 30 mila anziani ospiti dell'RSA. L'arrivo settimanale di circa 38 mila fiale darà via ad una ridistribuzione sul territorio, qui farà seguito l'immediata inoculazione. Per quanto riguarda i parametri, rimaniamo fermi un attimo al vaccino, perché diventi efficace, serve un richiamo dopo 21 giorni dalla somministrazione della prima dose. Ma uno studio su 44 mila pazienti dimostra come le curve di infezione tra i vaccinati crollano al dodicesimo giorno. Il Veneto è pronto a gestire anche la seconda fase della vaccinazione, quella che uscirà da RSA e ospedali. Per quanto riguarda i dati sul contagio in Veneto, che sono pesanti, sono impressionanti, lo ha messo anche il presidente Zaia, dicendo che però non siamo Bergamo. Detto questo, Zaia ha ammesso di attendere con ansia i risultati di questo periodo di lockdown, sottolineando come fino ad oggi, forse serviva prima chiudere, la zona gialla non la decido io, lo fa un algoritmo e i 21 parametri, dice Zaia, che stante la situazione dovrebbero essere rivisti. Critiche alla stessa divisione in zone ritenute poco incisiva. Come solito c'è lo scarico di responsabilità che ormai ci accompagna in questi mesi. A pagina 10 si parla appunto sempre della questione in Veneto, il tasso di contagio vola tra il 36 e il 25%, lite infinita sui test molecolari e rapidi, braccio di ferro con il ministro Speranza per cambiare i dati. Gallera, punzecchia Zaia e il PD insiste, la situazione è grave. Quindi l'articolo è di Albino Salmaso, che ricorda come la congiura del tasso di contagio schizzato 36%, come i tempi della peste del 1630 a Venezia, che fulminò un terzo della popolazione. La statistica non poteva fare uno scherzo peggiore a Luca Zaia per farlo traballare dal trono del governatore più efficiente d'Italia nella lotta al Covid. La notizia è stata battuta dall'Ansa la mattina di Natale. 5.010 casi positivi su 13.776 tamponi molecolari hanno fatto schizzare il tasso di positività al 36,3%, tre volte di più della media nazionale che al 12,5%. Ricordiamo dato Veneto. Nel database della protezione civile a Roma non sono stati caricati i 40.000 tamponi antigenici, la grande rete da pesca nel mare degli asintomatici per individuare i positivi in 15 minuti che ha fatto del Veneto un modello in Italia. Fin dai tempi di Vo con la lezione del contact tracing impartita dal professore Andrea Crisanti, l'unico validato che è il professore Andrea Crisanti che è convinto sostenitore del test molecolare. Zaia ha preso un'altra strada, quella dell'antigenico molto più rapido e meno sicuro che il CTS di Agostino Miozzo esclude dal database. E se l'RT, il tasso di contagio ufficiale è intorno all'1,2 pari a 12 casi su 100, è solo grazie all'abilità del governatore e del suo staff che negoziano con il ministro Speranza i 21 parametri che hanno regalato al Veneto due mesi di zona gialla. Poi ovviamente su questa tematica ci sono diverse polemiche. Infatti l'articolo dice insomma è sempre colpa di Roma, Speranza lo sta dicendo da settimane, ma è data base non cambia e l'errore è destinato a pesare perché la statistica si legge su valori omogenei. Veneto, Emilia, Lazio e Campania hanno una popolazione che si aggira sui 5 milioni di abitanti. In materia di tamponi molecolari i dati sono questi, 3.219.624 per Zaia e 1.989.495 per De Luca, governatore della Campania. Andiamo ai dati alla vaccinazione, al Videni e al Bellunese, emozione, tanta speranza, il vaccino un'opportunità da sfruttare. Il primo siero per l'infermiera Fullin, gli operatori diano il buon esempio, ha detto, e i medici di famiglia sottolineano come sono stufi di vivere nella paura. L'articolo è di Paola Dallanese, un articolo corredato da numerose fotografie che mostrano i primi vaccini. La prima vaccinata di Belluno è stata la caposala di Agordo, Paola Fullin. In centro l'arrivo e la preparazione dei vaccini, come chi ci guarda può vedere nella foto. E a destra la consegna della borsa con 20 dose e le dottoresse Luisa Cappello e Maria Gabriella Costantini. Scusate, sono uscita. Emozione ma anche tanta speranza hanno permeato il vaccination day ai piedi delle Dolomiti. A Belluno e Fedre sono stati 40 gli operatori che si sono immunizzati. Il furgoncino della società Plurima, partito alle 10.05 dall'ospedale di Padova, ascoltato dalla polizia, arriva alle 11.30 a San Martino di Belluno con le 20 dose del vaccino Pfizer-BioTech per gli attrettanti operatori sanitari offertisi volontari per il V-Day. Ad accogliere materiale biologico il direttore sanitario Giovanni Maria Pittoni, Sandro Cinguetti da Dipartimento di Prevenzione, tre assistenti sanitari e un medico della farmacia ospedaliera. Dal furgone è uscita la borsa termica che è stata portata all'interno della farmacia dove vengono preparate le dosi. L'operazione ha la durata di quasi un'ora vista la delicatezza necessaria nel maneggiare il vaccino. Alle 12.40 l'ospedale di Belluno ha la sua prima vaccinata, si chiama Paola Fullin, caposara del reparto di medicina Covid di Agordo, arrivata accompagnata dalla OS Valeria Fiocco, con loro anche due operatrici dell'ospedale di comunità di Auronzo, l'infermiera Elena Dacorte e l'operatrice Michela Sbardella. La vaccinazione importante sottolinea Fullin sia come persona sia come operatrice. Mi sono resa disponibile per lanciare un segnale anche al personale sanitario. Dobbiamo essere noi operatori a dare l'esempio e dimostrare di fidarci di questo prodotto, solo così l'intera collettività potrà seguirci. La riapertura del reparto Covid, chiuso a maggio, commenta la caposala che finora è riuscita a schivare il virus malgrado ci lavori a stretto contatto. All'inizio mi è sembrata una sconfitta la riapertura del reparto Covid a maggio, ma alla fine abbiamo visto che il Covid crea dei forti legami tra gli operatori. Nel reparto si è creato un bel gruppo solidale, aggiunge la OS Fiocco, la vaccinazione un modo per proteggere noi, ma anche i pazienti e i nostri familiari. Una giornata importante è quella di ieri che ha dato il via alla campagna a livello provinciale. 20 le persone vaccinate tra medici di famiglia, giovani medici dell'USCA di Belluno, camici bianchi di pneumologia e reanimazione, infermieri e operatori sociosanitari. Cinquetti, il responsabile direttore del Dipartimento di Prevenzione, dice che in settimana arriveranno altre 2.000 dosi. Dopo questa giornata simbolica presenteremo domani alla Regione il programma vaccinale Covid dei prossimi due mesi. Le prime dosi in arrivo saranno utilizzate per continuare la vaccinazione degli operatori sanitari in prima linea nell'assistenza, a seguire toccherà ad operatori ospiti delle case di riposo. Queste sono le parole del direttore sanitario dell'USCA, Giovanni Maria Pittoni, che ha evidenziato lo sforzo fatto dalla sanità in questi mesi. Il vaccino che abbiamo prodotto, proposto, ha precisato Sandro Cinquetti, a capo del Dipartimento di Prevenzione, è il frutto di uno sviluppo tecnologico unico nella storia della vaccinologia. Di regola per mettere a punto un nuovo vaccino servivano 3-5 anni. I vaccini Covid, messi a punto dalle massime competenze scientifiche e farmaceutiche attive nel mondo, si presentano efficaci e sicuri, utili quindi per ottenere elevati livelli di adesione per contribuire, assieme alle altre strategie, al definitivo appiattimento della curva epidemica. Entro qualche giorno dovrebbero arrivare a Belluno altre 2.000 dosi riservate appunto al personale sanitario. E Pittoni ha detto che è iniziato il percorso per uscire da questa pandemia. L'articolo è sempre di Paola Dallanese. E poi c'è l'infermiera Nives, che è stata la prima a essere vaccinata a Feltre. Ho visto soffrire molte persone. Il medico Darugna e i suoi assistiti, seguite il mio esempio, D'Agostini. Il mio vuole essere un messaggio di speranza. L'articolo è di Laura Milano. Hanno alzato la mano rispondendo all'appello per poi scoprire il deltoide. I 20 operatori della sanità Feltrina che ieri mattina hanno ricevuto la prima dose di vaccino per fare appugni con un virus che li mette tuttora a dura prova come professionisti. Siamo quindi a Santa Maria del Prato. Antonia Resenterra, per tutti i Nives, è la prima a ricevere la dose e attendere i 15 minuti precauzionali. Abituata a incontrare ogni genere di virus, in anni e anni di pronto soccorso, questa volta non si è tirata indietro nemmeno con il vaccino antinfluenzale. Ho visto troppe persone stare male causa Covid, ma ho scelto di vaccinarmi anche per dare il mio contributo al benessere comunitario, compreso quello economico che la pandemia ha messo a dura prova. Una pandemia che continua a pesare in modo molto forte su tutto il territorio bellunese. Due decessi e 66 nuovi positivi stazionari di coberi ospedalieri sono i dati di ieri. Sono 188 i diegenti complessivi. Oggi, viste le previsioni meteo, è stato sospeso il Dravina Cortina. Infatti sta nevicando abbondantemente anche in Val Belluna. Negli ultimi 24 ore sono decedute due persone Covid positive, una donna di 82 anni ricoverata nell'ospedale di comunità di Belluno e un uomo di 77 ricoverato in rianimazione a Feltre. Stazionari anche per la giornata di ieri dati relativi ai ricoveri. Nelle aree non critiche pazienti degenti sono 120 e negli ospedali di comunità le persone Covid positive presenti sono 54. Oggi appunto per questioni di sicurezza rimarrà chiuso sospesa l'operatività del Covid Point di Cortina D'Ampezzo. Andiamo alle pagine di Belluno e lasciamo, anzi prima leggiamo le notizie che riguardano la stagione dello sci. Impianti a fune, linee guida in alto mare, l'apertura piste non prima del 7 febbraio, sempre a causa della pandemia, l'articolo è di Francesco Dalmas. Minella, presidente dell'ANEF, dice che il 7 febbraio è troppo tardi, ci sono operatori che già ipotizzano di saltare la stagione e serviranno ristori alla tedesca. La stagione dello sci aprirà, se non ci saranno ulteriori intoppi, alla vigilia dei mondiali di sci di Cortina che iniziano l'8 febbraio. A Roma, negli ambienti del governo e in quelli del Comitato Tecnico Scientifico, si pensa sabato 6 o domenica 7 febbraio. Di sicuro è saltata la data del 7 gennaio. Gli impiantisti incrociano le dita per sabato 23 gennaio, ma loro stessi si rendono conto che la risposta del CDS alla proposta di linee guida delle regioni e quindi dell'ANEF è così zeppa di complessità che in un mese sarà difficile definire un protocollo che sia effettivamente praticabile. Il 6 febbraio, dunque, se non il 7. Abbiamo sempre detto che aprire a febbraio sarebbe troppo tardi, per cui riferisce Renzo Minella, che è presidente regionale dell'ANEF, l'associazione che rappresenta 80 impianti, ci sono operatori che già apotizzano di saltare la stagione e ce l'avrebbero fatta rinunciando soltanto alle festività, ancorché assicurati da sostegno governativo. Verificheremo quali ulteriori condizionamenti ci porranno da parte del CTS, se risulteranno troppo pesanti e costosi, è evidente che tanti impiantisti lasceranno perdere. E poi c'è il presidente del Consorzio Dolomiti su Peschi in un'intervista a piedi pagina, sempre a firma di Francesco Dalmas, che dice, si legge nel virgolettato, rinunciare alla stagione mai e poi mai. Andy Varallo, della Valbadia, presidente di Superschi Dolomiti è tra coloro che già immaginano di rinunciare alla stagione, pone la domanda e lui risponde ma lei scherza, noi gente di montagna non mogliamo tanto facilmente, tiene a far sapere. Accantoniamo per un attimo le notizie riguardanti il coronavirus e andiamo a pagina 5 a leggere una notizia che riguarda la viabilità nei quartieri. Pedoni più sicuri con le zone 30, Cavarzano, Nogaret e Castione. Il Comune lancia la sperimentazione di aree dove si circola solo a velocità ridotta. Simiele, utili i dossi ma non si possono fare ovunque. Valutiamo alternative. L'articolo è di Alessia Forzin. I dossi sono strumenti molto utili per ridurre la velocità delle auto e tutelare i pedoni ma non si possono costruire su tutte le strade. Ci sono però altre soluzioni che si possono adottare e il Comune di Belluno le sta vagliando. Da prossimo anno per esempio saranno sperimentate le zone 30 in alcuni quartieri e i candidati sono Cavarzano, Nogaret e Castione. Le zone 30 sono delle aree della città in cui le auto possono circolare solo a velocità ridotta. In questo modo si permette una migliore convivenza tra macchine, biciclette e pedoni. Si possono realizzare solo nelle strade adiacenti, limiti della velocità di 50 km orari. Il progetto inoltre deve prevedere interventi che favoriscano pedoni e ciclisti, ad esempio la riduzione dello spazio per la circolazione delle auto a favore di quello riservato alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali e la creazione di aree adibite a scopi sociali. La sperimentazione, come diceva, partirà a Cavarzano, nelle aree tra la farmacia, la chiesa, le scuole verdi e il bar Texas e a Nogaret. Per quanto riguarda Castione, anche lì potrebbe partire, potrebbe essere istituita nel centro di Castione un'altra zona 30. Poi per quanto riguarda le opere pubbliche, sempre nel capoluogo, in questo caso siamo a pagina 16 del Corriere delle Alpi, parco a Chiesurazza, marciapiedi e piscina, approvati i progetti, presto i lavori. A gennaio la sistemazione del castello Tuffi a Lambioi, in primavera gli interventi in via Pellegrini, Doglioni e Faverga. L'articolo di Alessia Forzin, con tutti i dettagli e le tempistiche che riguardano le opere pubbliche. Per chi fosse interessato può leggere questo articolo a pagina 16. E per quanto riguarda la giornata di oggi, in cui sta nevicando abbondantemente, è scattata l'alerta neve, niente tir sulle strade. Bolocco dei tir in tutta la provincia. Per evitare problemi alla circolazione, visto l'arrivo della perturbazione che porterà a consistenti nevicate, il prefetto Adriana Cogode è firmato un'ordinanza con la quale, per tutta la giornata di oggi e fino alle 5 di martedì, si dispone il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate. Alla luce dell'alerta neve diramato dal centro funzionale decentrato della regione, ieri il prefetto ha riunito il comitato operativo a viabilità, nel corso del quale gli antigestori delle strade sono stati invitati a mantenere un attento monitoraggio della situazione, assumendo eventuali misure di interdizione al transito di tutte le categorie di veicoli o di alcune di esse. Andiamo avanti e leggiamo la notizia che riguarda la frangivento, in questo caso siamo a pagina 19, ci sono anche delle fotografie che mostrano questa innovativa automobile, frangivento, la coquista di Abu Dhabi e Dubai. L'hypercar a Svanè dei fratelli Pirolo è esposta durante il Gran Premio di Formula 1. Apriremo due showroom per far conoscere e sviluppare il nostro marchio. L'articolo è di Stefano Vietina. L'affrangivento automobili dei fratelli belunesi Giorgio e Carlo Pirolo e del loro socio torinese Paolo Mancini conquista gli Emirati Arabi. Merito dell'hypercar che punta su ecocompatibilità, trazione elettrica e massima personalizzazione. È stata un'altra gran bella avventura, spiega Giorgio Pirolo, perché siamo stati ospiti della famiglia reale e abbiamo potuto presentare l'auto all'Emirates Palace di Abu Dhabi. Il tutto è stato organizzato da un gruppo di investitori e partner che ha mandato un cargo della Emirates per portare l'hypercar nella penisola in tempo per il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi dove la Svanè è stata esposta davanti ai paddock. E ora la nuova macchina, la nostra macchina, si trova al Dubai Mall dove rimarrà per tutte le festività natalizie. Giorgio Pirolo, designer bellunese, ha su attivo collaborazioni con i marchi prestigiosi come Ferrari, McLaren, Lamborghini e Fiat e ha maturato a Monte Carlo un'interessante esperienza nel campo retail con lo sviluppo di brand, architetture e catene commerciali legate al mondo della Formula 1. Quindi un grande successo per l'affrangimento dei fratelli Pirolo, dei fratelli bellunesi Pirolo. Passiamo al gazzettino. Anche qui la foto di copertina dell'edizione del Nordeste è dedicata al Vaccination Day Veneto 38.000 dosi a settimana da ieri è iniziata la campagna di vaccinazione e ci sono le foto che mostrano i volti Nives e gli altri i volti e speranze i primi operatori sanitari del Nordeste ad aver ricevuto il vaccino anti-Covid ieri un gesto simbolico ma anche di speranza e di rinascita. Andiamo all'interno del giornale per leggere alcuni articoli i vaccinati, le speranze e le storie a pagina 3 ci sono diverse testimonianze ed è stata raccolta anche quella di Nives Resenterra un'infermiera del 118 che è stata la prima vaccinata contro il Covid-19 nel bellunese e c'è la descrizione di quanto è accaduto e quello che leggevamo prima anche sul Corriere delle Alpi Andiamo avanti nella lettura e passiamo a quelle che sono le misure del governo è stato dato via libera alla Camera alla legge di bilancio che ora va al Senato provvedimento da 40 miliardi tra fondi dell'Unione Europea e micro interventi assegno per i figli e super bonus 110% l'ok alla manovra una manovra anomala sospesa tra la necessità di dare continuità ad alcuni dei provvedimenti d'emergenza del 2020 e l'attesa dei fondi europei da destinare interventi più strutturali per lo sviluppo quella approvata ieri sera dalla Camera con 298 sì, 125 no e 8 astensioni è stata una legge particolare anche dal punto di vista dei tempi e dell'iter parlamentare l'esame a Montecitorio è iniziato di fatto solo nella seconda metà di novembre con circa un mese di ritardo rispetto alla prassi normale e al Senato non ci sarà tempo se non per un rapido passaggio formale 4 miliardi in dote arriva la Cassa Integrazione per gli autonomi riforma del fisco solo tra un anno e congedi ai papà per quanto riguarda la famiglia sugli edifici lavori agevolati fino alla metà del 2022 detrazioni anche sui mobili la manovra appunto passerà al Senato per essere approvata essere discussa e approvata anche dal Senato andiamo avanti nuova ondata di maltempo vento forte e neve in pianura in montagna sono previsti anche 50 cm traffico vietato ai mezzi pesanti nel bellunese possibili limitazioni ai collegamenti in treno l'Italia è di nuovo investita da un'ondata di maltempo che porterà a temperature polari in molte regioni con vento forte, pioggia, temporali e neve anche a bassa quota in Veneto e Friuli con pericolo valanghe nella provincia di Belluno traffico vietato fino a martedì per i veicoli pesanti ridotti anche alcuni collegamenti ferroviari dove sono previste le nevicate più abbondanti quello che leggevamo anche prima andiamo quindi alla pagina dell'edizione di Belluno vaccini alle 11 l'arrivo sotto scorta l'abbiamo visto prima c'è anche la fotografia che mostra il debutto a Feltre con l'infermiera Antonia Nives rese in terra solo così sconfiggiamo la pandemia questo il titolone scelto per la fotonotizia che poi prevede un approfondimento all'interno e c'è poi anche una notizia che riguarda i blitz dei NAS nelle case di riposo nell'antivigilia di Natale ci sono stati i controlli dei carabinieri del NAS che hanno effettuato diversi blitz nelle case di riposo bellunesi sono state sequestrate anche mascherine poi andremo a leggere e altri lanci riguardano a Belluno l'app che arriverà per pagare cibo e cure a chi non può e cambiando argomento nel centro Cadore nel Regno delle Ciaspe piste e sentieri come biliardi andiamo quindi all'interno posata oggi la prima pietra della strada per la normalità si parla della giornata storica quella negli ospedali di Belluno e Feltre con i primi 40 vaccini portati da Rasi Caldonio mia figlia di 9 anni è orgogliosa lo vuole anche lei e c'è la testimonianza di Paola Fullini infermiera coordinatrice del reparto medicina Covid di Agordo che è stata la prima persona ad essere vaccinata nel tendone dell'URSS a Belluno pronti a vaccinarsi appena arriverà il loro turno e ci sono il ministro bellunese Federico Dincà l'assessore regionale Gian Paolo Botaccini e il presidente della provincia Roberto Padrinca hanno annunciato ieri appunto che si vaccineranno attacchi negazionisti nelle pagine facebook dei camici bianchi siete servi di un potere oscuro anche l'AIFA ha dichiarato che il vaccino non è sicuro perché è ancora in fase sperimentale tutti dichiarati che non ci sono rischi vergogna è uno dei commenti più forti che compaiono su profilo facebook del dottor Speridione della Lucia pneumologa San Martino di Belluno il medico era uno dei 40 sanitari che ieri mattina ha ricevuto le prime dosi contro il virus scrivono tante cose su noi medici dice della Lucia ma non meritano alcun commento io gli rispondo pubblicando i documenti ufficiali dell'AIFA se vorranno leggerli bene altrimenti faranno a meno quanto alla frase servi di un potere oscuro Speridione dice non la capisco se vaccinandoci rischiassimo qualcosa lo faremo nella nostra integrità personale quindi al massimo saremmo stupidi ma non dei servi il tema vaccini è molto dibattuto e della Lucia dice che può parlare della sua esperienza in pneumologia nel momento in cui c'è un atteggiamento di rifiuto alla terapia non invasiva le alternative sono due o la rianimazione o la morte una persona può anche dirmi lasciami andare perché è un diritto riconosciuto della costituzione ma in quanto medico ho una certa responsabilità dice ovviamente Speridione della Lucia quando sali su un grattacielo dice ancora al medico non ti chiedi chi l'ha costruito con quali criteri in quanto tempo entri in ascensore ti fidi e sali così con il vaccino fidarsi è un principio necessario per stare in comunità che sta alla base del progresso e miglioramento della salute e della salute complessiva nessun commento come risposta ho postato gli studi clinici dell'AIFA dice ancora Speridione della Lucia che ieri si è fatto vaccinare a Nass nelle RSA sono state sequestrate mascherine il blitz è scattato l'antivigilia di Natale in diverse strutture tra Feltrino e Bellunese nel Mirino una partita di dispositivi la partita di FFP2 finita nell'indagine era stata acquistata a marzo su input di un'associazione ma sarebbe irregolare una decina di uomini del nucleo antisofisticazione e sanità di Treviso hanno controllato la regolarità rispetto delle normative anti-covid nei luoghi di lavoro sono scattati anche alcuni sequestri di materiali in particolare di mascherine sulla cui regolarità di fabbricazione di donne o uso sono in corso indagini a fianco del personale Nass operato personale Bellunese e Feltrino dell'arma l'indagine è attualmente aperta e sta cercando di far luce su una partita di dispositivi di protezione individuale FFP2 acquistati nella prima ondata del virus su input di un'associazione bellunese che raggruppa vari enti i controlli sono stati fatti nelle case di riposo e soggiorno anziane nei distretti del Bellunese e soprattutto del Feltrino e c'è stato appunto anche un sequestro leggiamo ancora un paio di notizie prima di chiudere la rassegna di oggi andiamo alla notizia che riguarda il centro cadore con le ciaspe tra le nevi alla riscoperta del regno ha riaperto il percorso invernale gestito dall'Unione Montana del centro cadore e la totale sicurezza degli escursionisti garantita dalle guide alpine della zona c'è un articolo di Giuditta Bolzonello ha riaperto le porte il regno delle ciaspe in questo inverno di sci vietato la neve regala comunque occasioni di divertimento in sicurezza il progetto dell'Unione Montana centro cadore è stato rifinanziato e ampliato l'operazione di battitura di piste e sentieri con i gatto delle nevi dell'Unione Montana è scattata dopo la copiosa nevicata che ha inviancato l'intero cadore il regno delle ciaspe è un'iniziativa che da 2013 con la collaborazione dei rifugisti offre un servizio di accoglienza e supporto agli amanti delle racchette da neve meglio conosciute come ciaspe tra le dolomiti cadorine alla fine di questa operazione di battitura saranno resi accessibili oltre 100 km di percorsi e per quanto riguarda i mondiali di sci che andranno in scena dall'8 al 21 febbraio cambia la viabilità in centro siamo ovviamente a Cortina d'Ampezzo la mobilità urbana di Cortina sarà rivoluzionata per due settimane da lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio durante lo svolgimento dei campionati del mondo di sci alpino è stato predisposto un piano finalizzato a garantire la sicurezza e l'accesso all'area di gara alle pendici della Tofana sul versante occidentale della Conca interessa anche le scuole e lo stadio olimpico per la viabilità in paese ci saranno due zone a traffico limitato la zona 1 di colore rosso sarà attiva per tutte le 24 ore da lunedì 8 febbraio fino a domenica 21 sulla strada comunale che dal bivio di Gilardon sale fino a Pietofana quindi nella zona delle piste di gara e dei traguardi la zona 2 di colore giallo sarà attiva negli stessi giorni dalle 7 alle 17 e comprenderà la strada 48 delle Dolomiti dal ponte Corona fino a Pocol via dei Campi via del Parco il Lungo Boite via dello Stadio via Marangoi e via del Castello comunque di questo argomento se ne parlerà sicuramente molto nelle prossime settimane per chi volesse approfondire c'è questo articolo di Marco Di Bona e proprio con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi vi aspettiamo domattina puntuali sempre alle 8 e 30 sulle frequenze di Radio Piave poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo restate aggiornati anche su tutto ciò che accade in provincia seguendo il nostro sito internet www.amicodelpopolo.it intanto grazie a tutti per l'ascolto un sereno lunedì e un buon inizio di settimana ci rivediamo prestissimo grazie per l'ascolto